La grotta di Mendicata, se qualcuno se la ricorda, uno dei pochi che se la ricordo sono io, eccola qui, vedete, si entra, sono entrato tante volte, la prossima volta entriamo, ma soprattutto ammiriamo questo suggestivo albero di amarena selvatica, la radice va nel sottosolo e attraverso anche la roccia, vedete che ramificazione, va dentro la roccia, qui nel corso degli anni e dei secoli, pian piano crolla tutto e tutto si trasforma, guardate qui, questo è un urmo e questa è la taroccia.